Ragazzi, bentornati nel secondo episodio di Poppy Playtime capitolo 2. Mi sono fatto un piccolo caffè incredibile, ho spento le luci del cappello perché, insomma, si stanno a scaricare le pille, me lo vorrei darei per farci qualche altra scenetta incredibile. Ecco, mi metto pure il pompò davanti, una readdrizzata. Eravamo rimasti con Poppy che stava aggiustando la corrente, mi aveva fatto prendere uno spavento incredibile. Come avrete visto nello scorso episodio, ho finalmente scoperto come usare l'inventario. Non abbiamo ancora visto questa brutta Mammy Long Legs. Abbiamo fatto un po' di lore su questi Poppy Flower, su questa idea di, a quanto pare, uccidere e risuscitare topi, ma probabilmente lo facevano sui bambini. Quindi oltre a dare in pass di bambini i giocattoli, o far diventare i bambini i giocattoli, li uccidevano, li risuscitavano, insomma, brutte cose succedevano qui dentro. E adesso interagiremo con Poppy per la prima volta, dopo che ci ha fatto il Wake Up Samurai moment. Sono intrigato, mi sono stupito che ci sono i collezionabili, quindi probabilmente ci dovrò fare forse più di un episodio extra per prenderli tutti. Direi di partire. L'Odd Game, ok, andiamo un po'. Spero che mi abbia preso il checkpoint, perché non lo so. Eravamo rimasti che c'era un enigma da fare. Oh no, non mi ha... Pensavo mi salvasse davanti a Poppy. Quindi non siamo arrivati neanche al primo checkpoint. GG proprio. Recupero tutto e leggiamo la cassetta a sto punto e poi a tra poco. A questo punto possiamo leggere pure la chiave. Beh, adesso possiamo pure vedere i dettagli a sto punto. Ed è fatta con un fiore. A sto punto è una chiave con il simbolo dei Poppy Flower. Ok. Ah, i collezionabili mi rimangono! Eh, perché mi è rimasto il collezionabile però non... Ok, vabbè. A tra poco. Ok. A questo punto... Elliot Ludwig Biography. Ok, quindi proprio Biografia di Elliot Ludwig. E questo è il foglio. Ok. E questo è il foglio dell'esperimento. A sto punto risentiamoci la cassetta. E poi andiamo avanti. Apriamo subito per sto punto. Oh, perfetto. Risentiamo la cassetta. Non tutti i mani vengono per muocere, dai. Risentiamo. Ok, divorziato. Dove dir sono... Oh, che 1960? Ok. È morto qualcuno. Quindi dopo la morte di qualcuno lui ha continuato a lavorare. Molto più di prima. Ma come un uomo venne per creare un impietro così assoluto? Come si è riuscita a rimanere determinato anche dopo aver sofferto una traccia? È tutto inizio nel anno fattivo del 1910. E qui si trova. Ok, è intrigante. Ma qui avevamo analizzato tutti i disegni quindi io ipotizzo che possiamo andare avanti. Eccoci qua, eravamo arrivati qua. Vedi, velocissimi. In sei minuti, più o meno. Eccola, Poppy! Eccola, fai vedere come sei. Sì, guardi. Allora, è animata in maniera incredibile. È mostruosamente fatta bene. Ma posso interagire con lei? No. Gli ho dato due sberle. Ma qui c'è un altro di questi terribili Huggy Wuggy. Si riparte con gli enigmi. Ok. Ecco l'adesiva. Non è orribile? Qui sono tutti cartonati, vedi? Le fiori sono veramente inquietate. Allora, devo allacciare le tesi. Ora mi serve l'inizio. Eccolo qua. Ah no. Ragazzi, sapete che io ho gli enigmi? Giustamente... Eh, vabbè. Ci siamo qui. Vediamo se viene a scaffarlo questo in maniera... Ok. Ok. Ok, vediamo se ce la facciamo. Questa è una scala, poi, scusate. Ok. Mi ha battuto le manine? Ok. Ci ha ringraziato per averla liberata. Però, quando l'abbiamo liberata, non mi sembrata tanto felice. Infatti ci ha fatto quella specie di jump scare incredibile. E' ancora una doll. Ok. Ci sta chiamando. E poi ha detto... Vorrei ricompensarti per avermi liberata. E seguimi alla stazione del treno. Ah, c'è un treno. E adesso ci continua a chiamare. Quindi dobbiamo seguirla. Ma queste sono scale? Posso salire? No. Però mi chiedo, perché ce n'era... Ma guarda che pressione! Ah, dobbiamo tornare sopra! Ah, ok. Ecco perché mi chiamava. Ok, non l'avevo vista. Perché lei è passata qui e dico, è andata qui dietro, pensavo. Invece è tornata lì sopra. Ci sta... E ora come ci aspetta? Guarda come ci scruta. Va bene. Stavo per dire perché non mi fanno salire le scale per andare lì. Comunque, dai, questa è un'unichima facile. Ok, quindi provo una meccanica del gioco e provo fare questa. Ok. E, 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 e... Ah, quindi possiamo salire? Quella è la faccia di Poffy che mi sta giudicando in una... Guarda come mi giudica male! Proprio... No, mi voglio... Scusate, io devo fare una foto, scusate. Lo so, non so, questa cosa la taglierò dal video, però devo fare una foto, scusate. La metterò su Instagram. Proprio questo demente mi doveva capitare per liberarmi. Stavo meglio essere chiusa da dentro, vabbè. Quindi, oltre a non donare, possiamo salire. Vabbè, vabbè, andiamo a... Facciamo a spettare Poffy che poi si arrabbia. Comunque, nominava una stazione dei treni. E Poffy mi sembra un po' allegra, però prima non mi sembra tanto allegra, eh. Hey, I'm up here. I see you. I should be able to follow you through the fence. This way. Io non so se puoi perludere che questo è il giocattolo perfetto, però è inquietante. Sai, sono tutti inquietanti questi giocattoli. Io non so come tutti i bambini giocavano a questi giochi. Hai visto che è simpatica? Dice, ah, I see you, insomma, ti vedo. Sembra qualcuno laggiù. Scusami? Eh, non posso passare lì, scusami. Non posso passare lì. Ah, beh, 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 ok. Ok. Buongiorno. Possiamo parla di andare in corsa? Wow! Gardaland, proprio. Ok. Comunque ci sono un sacco di queste porte chiuse che io non capisco se mai si potranno aprire. Niente. Buongiorno. Allora, lì, ora comparirà Poppy lì, guarda, eh. No. Poppy? Ce la siamo persa? Ah, no, è uscita già. Quindi questa cosa si chiama BuzzBee, cosa? Un gatto ape? Employed at Time Quo, Arnott, non sono permessi di uscire finché non completano i loro lavori giornalieri. A BuzzBee, that's me. Ripeto, a me ricorda le mie el-pops, non so se vi ricordate le mie el-pops. Comunque, è una battuta sul fatto che le abby fanno zzz, è come le mie el-pops, e quindi quando senti a BuzzBee, that's me, quindi quando senti il rozio, sono io, vabbè, insomma. Ci siamo persi i Poppy? Poppy? Beh, se è passata qui dovrebbe... è uscita qua. Poppy? Andiamo. Guardando i collezionabili, perché non so dove potrebbero essere. Eccola, Poppy. Game Station. Però noi stiamo andando a quanto pare ho capito treno. Tren Station. Quello è un Game Station. Dice, c'è bisogno di un conducente per il treno e io sto a farlo, tipo... Quindi ho un po' paura. Buongiorno. Production Game Station. Innovation. Play. Play. Poppy? Tutto bene? Research. Poppy? Listen. I'm going to need you to trust me. Dovrebbe essere una scena tragica che mi ha fatto rire. Ha provato a dire... Lo so, può sembrare Stana, ma devi fidarti di me. Mi sa se ci dobbiamo buttare, eh? Che il godo sia con noi. Che il godo ci fa. Ah, c'era un tubo? Oh. 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 Elliot Ludwig. Cosa? È talmente grosso questo posto che si muovevano attraverso dei tubi? Siamo passati per il tubo del fondatore Elliot Ludwig. Questo è Stella Greyerb. Stella. Stella. Possibile che abbiamo sentito nel primo capitolo una videocassetta su di lei? Che era quella che mi si è intervistata. Non mi ricordo il colore della videocassetta. Che tipo, era quella che diceva che gli piaceva creare giocattoli. Ma era triste del fatto che lei ormai era cresciuta e invecchiava. E non poteva più giocare con i giocattoli. Ok. Qui c'è un tubo fuori uso. Ok. Non sappiamo chi è. Litpierre. Questo è il guardiano. Questo è di MNR. Non ho idea di chi sia. È di, non lo so. Forse è uno di quelli che lavorava nel magazzino del primo capitolo? Va bene. Ok. Un sacco di informazioni, ragazzi. Oh, God. Ok. Allora, abbiamo un po' di strade. Allora, abbiamo... Qui immagino che non posso passare sotto, vero? No. Ok. Dobbiamo aprire questa. Qui c'è un piccolo aghi. All aboard. Tutti a bordo. Ok. Quindi c'è veramente un treno. Game Station. C'è un treno, infatti. Ok. Ok, dobbiamo attaccare i fili. Power. Power. Ok. Sono più facili gli enigmi rispetto al primo o sono... Ho detto... Appena ho detto sono più facili gli enigmi rispetto al primo. E come faccio questo? Devo smettere di dire che sono facili gli enigmi. Qui c'è una... Ma è a tempo? Ormai sapete che io e gli enigmi in questo gioco proprio non andiamo d'accordo. Saranno passati, ragazzi, penso, almeno 10 minuti. Allora, se io l'attacco mi ghigliottinano i fili, se si può dire così. Aspetta un po'. Aspetta un po'. Aspetta un po'. Aspetta un po'. Ecco perché c'è l'artubo blu. Ed è pure colorato in blu per diterlo. Oio, vedilo. E così eviti le ghigliottine. La prima è fatta e ora l'altra sta qui. E ora l'altra... No, se adesso passo qui me lo taglia. Così? No, così. Aspetta un po'. Vabbè. Allora, non è stato tragico come quello del primo capitolo o del trenino. Però più o meno siamo sui ragazzi quanto tempo? Ve lo dico così. Siamo sui 10-12 minuti buoni, eh. Ripeto, non come quello lì che ci ho messo 20 e passa minuti. Perché giustamente a un certo punto ho fatto... Ma che bello questo tubo azzurro come la mia manina. E ho passato il filo e mi evitava le ghigliottine. Vabbè, gli enigmi sono veramente... Simpatici gli enigmi. E ma qui non ci si può andare? Ma io volevo andare qua dietro, pensavo si aprisse questa. Game Station. Poppy? Ancora non l'abbiamo trovata, Poppy, eh. Oh, perché lag? Ok, manina rossa. Un nuovo planet. È stato così lungo. Poppy? Molto esercizionante, mamma. Mamma ha ascoltato che Miss Poppy va solo a dare il codice di treno per escapare. Ora, come è questo divertente? Inoltre, perché non facciamo un gioco? La Game Station è ancora lavorata. È proprio come i tempi. E se vincere i nostri tre gioco, ti darò il codice di treno. Mamma ha amato l'idea, Poppy. È terrorizzata, c'è stata... È molto divertente. Andate alla memoria musicale e mamma avrà iniziato. Obey the rules or I'll tear you apart and eat your insides while you're still alive. Ho alcune cose da dire. Primo, capisco perché è stata 34ata lei. I understand that. Secondo, è ok che noi siamo fragili. Perché noi siamo umani. Cosa siamo noi? Noi siamo umani con il Grappac. Quindi siamo deboli in confronto a queste creature. Quindi lei, giustamente, diceva Ah, mi ha strappato una manina. E beh, ma sarà fatta di plastica, di gomma. Avrà una forza sovrumana questa creatura. Come ce l'aveva Huggy nel primo capitolo. Però mentre Huggy guaggy ti metteva una specie di ansia e frustrazione diversa, lei è completamente pazza. Sembra una cavolo di iandere. Mi prude questo cappello da monica. Mi sta prudendo. È una super iandere. Hai visto come teneva Poppy? Porella. Lei è terrorizzata. Non ha fatto un verso, Poppy. Allora, da quello che ho capito, ci ha strappato una manina e ha detto col cavolo che vi faccio scappare. Riassunto. Poppy ti voleva dare il codice per andare via col treno, ma non te lo darò. E poi ha detto se vuoi avere il codice, tipo, dobbiamo giocare. Ha detto vai al musical qualche cosa e io farò partire il gioco. E se vinciamoci da Poppy il codice. Ok? Torneremo a giocare come ai bei vecchi tempi. Anche questa è una frase sus. E poi ha detto una frase ovviamente finale, molto bella, se proverai a scappare, insomma, a non obbedire a quello che dico, ti divorerò vivo. Più o meno o ti divorerò vivo o ti farò a pezzi da vivo, insomma. E ti guarderò morire, insomma. Una cosa bellegra. E poi è scappata via ridendo, insomma. Quindi io mi chiedo, non è che la porta dietro sia aperta? Ah, siamo chiusi dentro. Perfetto. Niente. Andiamo, vabbè. E quindi non abbiamo più la manina. Bene. Ci abbiamo solo una mano. Buono. Veramente inquietante. Playtime. Ah, ma guarda che belli. Sono tutti giocattoli. Allora. Il gatto ape, che si chiama Bzz, Bzz B, qualcosa del genere. Un coniglio. Un coniglio con dei tamburi. Ok. Poi il dinosauro, che penso si chiami Bron. Aggie Waggie Femmina. C'era scritto Cussi, qualcosa del genere. Poi Mammie Long Legs. Poppy. Guarda come è contenta Poppy. Poi Aggie Waggie. Oddio, il robottino come si chiamava? L'abbiamo visto nel primo capito. Poi Candy Cat. E questo che diavolo è un bruco? È Alessandro il Bruco. Mi hanno copiato il personaggio del Godoverse. Non so se avete visto i video special. Insomma, uno dei nemici, se non il nemico fondatore del primo anno di vita del canale. È un bruco molto cattivo che si chiama Alessandro il Bruco, che nasconde delle cose di loro incredibili. vi invito a vedere qualche video special, magari, se vi interessa quel tipo di trattenimento. E sembra Alessandro il Bruco, però con la faccia da cane. Ok. E qui ce n'è uno morto, perfetto. Possiamo... Ok, possiamo analizzarlo. È un bruco cane, con le zampette. Ma sembra apparente Alessandro il Bruco sotto steroidi. PG? PG? Pagapiller. Pagapiller. Swap animals. Add body piece to make him grow. Ah! C'ho picci diversi, diventa più grosso. Ok. E lui si chiama Pagapiller. Pagapiller, che infatti vuol dire tipo bruco, insomma. Ok. Ok. E questo? Guarda quanti bambini, madonna, che cosa avete fatto. Questo è il trenino. Questa è la Game Station. Lì c'è Mommy Long Legs. In mezzo ai bambini. Le scale. Forse dovrebbe aumentare l'omniosità. Lì c'è tipo il coniglio, quello lì. E lì che c'è? Al buio? Che c'è? Ci sono dei tizi vestiti bianchi? Che sono scienziati? Qui c'è gente strana che guarda. Ok. Va bene. Ok. Andiamo. È proprio questo. Siamo proprio nella Game Station. Wow. Che atmosfera ragazzi. Wow. Quanta roba. Ma poi c'è una ragnatela. Ma quindi lei è veramente un ragno? Quindi lei fa la ragnatela? O forse perché qui non c'entra veramente nessuno tanto tempo? Lei sembra veramente arrabbiata, mamma mia. È arrabbiata diversa da Hagi. Press here. Ok. Vabbè. Stiamo proprio... Vabbè. Non si sente niente. E niente. Non si sente niente. Tutti i versi strani. Però sembra a mammi che li urla, quindi... Ok. Qui c'è uno scivolo. Che è qui? Ah. Ragazzi. È stato completamente a caso. L'ho premuto veramente solo perché sembrava qualcosa di sospetto. Abbiamo trovato il trenino? Sotto? Dei sì. Abbiamo trovato... Ah, che carino. Abbiamo trovato il trenino. Ok. Va bene. Domanda da un milione di dollari. Di goto. Questo treno dove va? Ok. Qui ci sono... Oh. Buono, eh. Chi è che ha bussato? Qui sono tutti giochi strani. Ah. Forse happiness. Forse felicità. Vabbè. Qui c'è da esplorare parecchio, ragazzi. Eh. Mannaggia. Quindi qua. Spero mi abbia salvato perché qui c'è un sacco... Waka Waki. Sembra il caccio alla talpa. Musical Memory Statue. Statua. E qui c'è il treno. Mano verde. Serve la mano verde. De. Oh. Buono. Posso tirarla? Hi kids. Welcome to the Game Station. I'm Stella. And we've got three super duper fun games to play. These little tests show us just how crazy strong and smart you are. Ok. Follow Mommy Long Legs down the stairs and we'll start by playing musical memory. See you in a bit. Ok. Abbiamo attivato la Game Station. Ha detto il primo... Ha detto... Insomma qui ci sono un sacco di giochi divertenti. Il primo è Musical Memory. E ha detto di seguire Mommy Long Legs. Io non la vedo però Mommy Long Legs. Quindi queste attivano tutti gli altri giochi. Vabbè a questo punto... Le facciamo nei prossimi episodi. Qui c'è il treno. Fammi esplorare un attimo perché sono curioso. Qui c'è il trenino. Ok. Ciuff ciuff. E qui c'è... L'Uggy Wggy Femmina. Ok. Tutti pronti. Ciuff ciuff. Va bene. Ok. Ok. Continuo a dire ciuff ciuff. Va bene. Sta lavorando come controllore del treno. Ah. Kissy. Non cussi. Si chiama Kissy. Si chiama Kissy Missy. Che nome strano. Vabbè. Aggy Waggy. Kissy Missy. Insomma. Vabbè. Sembra adorabile. Sembra. A questo punto qui c'è veramente tanto da esplorare. Io non so che fine abbia fatto Mommy Long Legs. E' un po' più è sparita. Il treno sta qua. Abbiamo scoperto la resi. Che si missy. A questo punto io non riesco a registrare un altro episodio. Mannaggia. È veramente tardi. Quindi a questo punto sapete che vi dico? Io mi sentirei. Se ci sono dialoghi di queste due. E ci fermiamo qua. Prossima volta iniziamo dalla... Musical memory. Sentiamo un po' che succede. Faccio questa. Che si apre? Ah. Non si apre niente. Ah ok. Devo per forza fare quello. Ok. Musical memory. Però io qui vorrei esplorare... Beh allora a questo punto facciamo... No no no. Qui ci andiamo al prossimo episodio. A questo punto vorrei esplorare... Quindi ci sono... Ci sono un sacco di disegni. Una... Dei bambini. Vedi? Una Ghiwaghi. Train driver. Ok. Insomma. Un pilota 3. A questo punto esploriamo un po' qua. Non c'è musica. Non c'è niente. Questo mi preoccupa. Non è che risuscita Ghiwaghi qua dentro. Non so. Ok. Bambini che abbracciano Aghi. Mia Aghi. Questo è il robottino. Va bene. I love candy cat. Ok. Quindi ognuno ha proprio il suo giocattolo preferito. Vedi? Un sacco di bambini però... Vedo apprezzano Mami No Glegs. Ok. Ma chi è che batte? Aghi e Kissi. Vedi? È Kissi Missi. Ah no. Sono le rotaie. Non posso andare da nessuna parte. Mamma che brutta faccia. Poi ragazzi ci sta un lavoro dentro questo gioco incredibile. Tutti i disegnini. Tanta roba ragazzi. E Mammi sembra un personaggio veramente intrigante. A meno lei comunica un po'. Cioè Aghi grugniva e basta. Ragazzi. Io direi che ci possiamo fermare qua davanti. Io spero mi abbia salvato. Stavolta sì. Perché penso questo è un checkpoint importante. Quindi figuriamoci. Tanta roba. Tanta tanta roba. La prossima volta vedremo Musical Memory. Quindi il primo di questi giochi che facevano i bambini. Se è difficile come gli enigmi questa cosa mi mette molta ansia. Abbiamo solo una manina. Vabbè. Misteri incredibili. Buon anno nuovo. Se quando vedrete questo video sarà il 2024. Che il 2024 sia un anno ricco di godo per tutti quanti. Ragazzi. Che il godo sia con voi. E ci vediamo alla prossima.